Volevo chiedere cosa penso le ultime norme che il governo ha deciso in materia di Covid, vi rispondo subito senza aspettare la vostra domanda, avrei fatto scelte diverse, lo sa benissimo il Presidente, lo sanno benissimo tutti quelli con i quali mi sono confrontato in queste ultime ore, ma questa è una legge del nostro Paese al momento, va rispettata, è stata fatta, come ha detto il Presidente Fontana, ieri l'intervista, una tempesta, una bicchia d'acqua, perché stiamo parlando per quanto riguarda i medici che lavorano negli ospedali in Lombardia, credo di 19 unità e quindi stiamo davvero parlando di numeri risibili e certo non reintroducendo questi 19 risolviamo i problemi del loro impianto organico, degli ospedali, né della Lombardia né dell'Italia, quindi credo che il problema vada rimesso nell'ambito della sua reale importanza nel contesto di una sanità italiana e regionale che comunque soffre, non è questa la soluzione dei problemi della sanità in Italia, ma è chiaro che vanno adottati con cautela quei provvedimenti del reintegro di questo personale, quindi l'ordine di medici sta facendo la sua parte, noi faremo la nostra e ovvio che vanno fatte dei controlli da un punto di vista medico e anche alcunista professionale, se qualcuno per un anno, due anni non ha lavorato e va fatto anche a tutela di tutte le persone che vengono ricoverate nelle strutture pubbliche, sanitarie e private anche di questa regione, quindi non credo che sia corretto eventualmente destinare, sebbene fossero, dei medici Novax nell'ambito di le parti con i quali possono vedere a contatto con pazienti fragili o a rischio, non è questo il caso perché da quelle che sono le specializzazioni che ho visto in questi 19 comunque non ci sono problemi, quindi ci sarà cautela nell'impiego di questo personale, ora che questo personale viene neimpiegato arriviamo alla fine dell'anno e quindi il problema di questo accorciamento drammatico dei due mesi alla fine della fiera non si porrà.